Mamma butta tutto, ci sono i carabinieri con papà. E' stata questa l'esclamazione di una ragazzina di appena 11 anni che ha lanciato l'accorato appello alla madre dopo che il papà, un 42enne di fiumefreddo, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri alla locale stazione. I militari dell'arma hanno arrestato l'uomo per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti contestandogli anche la determinazione al reato di persona non imputabile, illecito per cui è stata denunciata anche la convivente di 38 anni. Al termine di un'attività info-investigativa, i carabinieri avevano già deciso di perquisire l'abitazione dell'uomo tanto da far intervenire a supporto anche l'unità cinofila antidroga del nucleo di nicolosi approfittando dell'obbligo di firma a cui era sottoposto lo hanno quindi atteso in caserma. L'uomo si è presentato con in auto la figlia undicenne che dopo l'adempimento doveva essere poi accompagnata a scuola. Alcuni militari hanno quindi raggiunto l'abitazione trovando in casa la convivente mentre gli altri si assicuravano che il papà accompagnasse la figlioletta a scuola. Alcuni militari hanno quindi raggiunto la sua abitazione trovando in casa la convivente mentre gli altri si assicuravano che il padre accompagnasse la figlia nell'edificio scolastico. Lasciata la ragazzina si sono poi diretti verso l'immobile da perquisire ricevendo durante il tragitto la telefonata di uno dei carabinieri presenti nell'abitazione che riferiva che la madre, obbligata a rispondere in viva voce dai militari, aveva ricevuto sul cellulare una chiamata da parte della figlia che recitava testualmente «Mamma butta tutto, ci sono i carabinieri con papà». L'esito della perquisizione, grazie poi al fiuto infallibile del cane pastore tedesco Auro, ha dato esito positivo con il rinvenimento e sequestro di una decina di grammi tra cocaina ed eroina, già suddivisa in dosi. 90 compresse composte da sostanza utilizzata per il taglio della droga, un bilancino di precisione, nonché del materiale adoperato per confezionare la sostanza stupefacente. L'arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Piazza Lanza a Catania. Grazie a tutti.